Pensi di avere il prodotto migliore? Peccato che non serve a nulla. Naturalmente sto un po' esagerando, ma in questo video voglio parlarti di una falsa credenza, che è quella di pensare che il prodotto migliore significhi assolutamente avere successo nel mercato. Ciao, sono Andrea Zucca, mi occupo di marketing da più di 25 anni, nel merito marketing business to business, quindi il marketing fatto per quelle imprese che vendono il loro prodotto, il loro servizio ad altre aziende e con la mia agenzia, il mio team e i miei collaboratori mi occupo di aiutare le imprese a fare il miglior marketing che potrebbero fare per avere successo nel mercato. Nel mondo del marketing ci sono molto spesso, soprattutto nel contesto delle piccole e medie imprese, questa tipologia di situazioni, quella per cui appunto l'imprenditore o il manager è focalizzatissimo sul suo prodotto, lavora costantemente per migliorarlo e questo sostanzialmente è positivo, è cosa buona e giusta, però c'è un'angolatura che va sistemata, perché quello che non va bene è pensare che la chiave del successo sia esclusivamente la qualità del prodotto. Intanto dobbiamo fare un primo grande ragionamento da condividere. Premessa, la prospettiva dell'impresa, la prospettiva dell'imprenditore, la prospettiva del manager è di parte è distorta, cioè spesso voglio dire si vedono i propri prodotti, i propri servizi con un occhio diverso rispetto a quello dei clienti e quindi per esempio se facciamo una disamina dei nostri prodotti dal punto di vista qualitativo, beh non è detto che ciò che vediamo noi e soprattutto non è detto che ciò che pensiamo noi del nostro prodotto sia ciò che pensa il cliente e tra i due direi che è più importante il cliente se vogliamo vendere il nostro prodotto. Quindi questa è la premessa, quindi attenzione che quando parliamo di qualità siamo dentro qualità del prodotto, perfezione del prodotto, performance del prodotto, siamo dentro al grande paniere del percepito e del soggettivo, cioè il netto di casi eccezionali dove che ne so puoi misurare una performance con delle metriche che sono riconosciute dal mondo intero, quando parliamo di prodotto entriamo nel mondo delle opinioni. Per me questo prodotto è eccezionale, per te lo è molto meno. Chi ha ragione? Entrambi. Io non ho più ragione di te e soprattutto quando però pensiamo che il nostro prodotto sia migliore degli altri dobbiamo fare una grandissima attenzione, ma a prescindere da questo concetto, perché non voglio che si inneschi un dibattito, anche se il tuo prodotto, il tuo servizio è veramente ottimo, beh devi sapere che per avere successo nel mercato non è sufficiente. Conta l'esperienza che facciamo fare al cliente, totale, esperienza di marca, esperienza di brand, cosa diamo in termini di vicinanza al cliente, assistenza al cliente, esperienza appunto, attività che facciamo con lui prima, durante e dopo l'acquisto. Quindi vedi che intanto la prospettiva che dobbiamo monitorare, la situazione a cui dobbiamo guardare non è quella relativa al prodotto, ma a prima, a ciò che accade prima di venderlo, a ciò che accade al cliente durante l'esperienza di vendita e ciò che accade al cliente successivamente alla vendita. Allora già la prospettiva più ampia e l'oggetto di valutazione è un qualcosa di decisamente più largo, perché ci sono moltissime aziende che hanno un buon prodotto, ma magari fanno fare una pessima esperienza al loro cliente. Il prodotto è buono, ma l'assistenza post vendita è inesistente, se il cliente ha mezzo problema non esiste servizio, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi intanto cerchiamo di avere una prospettiva decisamente più larga. Secondo punto, attenzione a decantare le qualità del nostro prodotto in una prospettiva unilaterale, la nostra, perché se la prospettiva deve essere unilaterale almeno portami la prospettiva del cliente, portami quella del mercato. La nostra visione del nostro prodotto è sostanzialmente un po' l'ultima cosa che conta, perché è molto più importante ciò che pensa il cliente del mercato del nostro prodotto rispetto a ciò che pensiamo noi. Quindi intanto accertati che se la tua opinione, questo lo dico perché me lo sento dire moltissime volte, mi sento dire moltissime volte il cliente che dice guarda, quel competitor là fattura quattro volte noi, ma il suo prodotto è molto peggiore del nostro, quindi lui è più bravo. Ma è più bravo probabilmente nel marketing, è più bravo probabilmente nel far percepire al cliente qualche cosa di più che spazia molto di più rispetto al mero prodotto. Quindi stavo dicendo, intanto quando affrontiamo questi temi accertati che la tua prospettiva, che il ciò che pensi te, collimi col ciò che pensi il mercato. Primo grande punto. E poi la qualità del prodotto non è l'unica cosa che conta. Ovviamente sto dando per scontato, diciamolo perché non vorrei mai che passasse un messaggio fuorviante, diamo per scontato il fatto che l'ottimo prodotto deve essere uno standard. Cioè un prodotto eccezionale deve essere lo standard, deve essere normalità. Ma io sto confutando anche quella normalità. Ci sto dicendo, attenzione, che il prodotto, chiedo scusa, il prodotto non è l'unica cosa che conta. Quindi ricordati che questo aspetto è di fondamentale importanza per non avere una prospettiva sbagliata ed errata. E poi allarghiamo, allarghiamo, allarghiamo il concetto. La parola prodotto deve essere veramente allontanata dalle nostre menti. Pensa al sistema, pensa, sostituisci la parola prodotto con sistema. Tu non vendi un prodotto, vendi un sistema. Tu vendi un'esperienza, tu vendi un risultato. Ok? Quindi concentriamo il nostro focus su questo aspetto e soprattutto non commettiamo l'errore che ti ribadisco commettono in tanti di misurarci nei confronti dei competitor sulla base di nostri parametri e soprattutto quando il competitore è più grande di noi, è più bravo di noi, fattura di più, guadagna di più. Insomma, qualche ragione in più lui ce l'avrà. È una battaglia sciocca quella di dire lui è più grande, lui è più forte, lui guadagna di più, ma il prodotto migliore è mio. E completo ragionamento dicendo in tutte le categorie di business basta che tu vedi chi sono le imprese leader, i più grandi e se vogliamo completare questo ragionamento non c'è scritto nessuna parte che il suo prodotto sia migliore di un altro. Ok? Dove c'è scritto che il Dom Perignon è qualitativamente migliore di uno spumante di un'azienda italiana che magari fattura cento volte meno. Però Don Perignon è Don Perignon è diventato un brand, ok? Certamente è un ottimo prodotto, ma ce ne sono di ancora più buoni, ok? Se andiamo a vedere i parametri KPI di un sommelier, quel prodotto lì fatto di quale aziendina italiana, quell'ipernicchia dà 10.000 a 0 a quell'altro, ma quell'altro è un brand e gli dà 10.000 a 0 a quell'altro. Quindi questi giochini del mio è migliore, il prodotto, la qualità eccetera non contano, non servono, vanno abbandonati. Lo standard della qualità, l'eccellenza deve essere lo standard, l'ottimo prodotto deve essere lo standard, anche se nasco oggi, è ovvio, stiamo parlando dell'obietà. Vuoi vendere un prodotto cattivo? Vuoi avere successo oggi nel mercato con un prodotto debole? Di cosa stiamo parlando? Perdiamo tempo. Vorresti aver successo nel mercato oggi quello dell'iperofferta, dell'iperconcorrenza con un prodotto scadente? Allora, i prodotti sono tutti buoni, quello eccezionale, è il migliore di tutti, è un prodotto che ha un brand alle spalle, ha il marketing alle spalle, ha un'azienda che ha capito come valorizzare l'esperienza nei confronti del cliente. Spero di averti dato un messaggio chiaro. Naturalmente nell'annuncio che vedi c'è un link, puoi accedere ad una pagina web dove puoi richiedere a titolo assolutamente gratuito un confronto, una consulenza, un'analisi della tua azienda per farti capire come il marketing può impattare su di lei, ovviamente aiutandoti e massimizzando e velocizzando i risultati che certamente ti aspetti. Buon marketing, se non l'hai ancora fatto iscriviti al nostro canale. Buona visione!